Previously in this year Un rigo raga per il capodanno favoloso Colpa di Martina Eh T'ho cito Ciao ragazzi, buon anno e benvenuti in questo nuovo video Mi trovo a Zurigo E se non avete visto la prima parte del video Lo troverete sul canale di Martina Qua Abbiamo appena fatto il check out Adesso andiamo a mangiare qualcosa in centro Dirigiamo verso Mendrisio Passeremo la notte rigo Sì Abbiamo preso i brezzel A un chioschetto Abbiamo speso 2-7 franchi Buono Un po' particolari Vediamo com'è Buono Buono Ma bello Guarda che si esamo Buono Non si capisce cos'è Guarda Quello è buono Alla fine abbiamo deciso di andare a mangiare Al Mecchi Così per rimanere Al Mecchi Doni Leggeri Comunque c'è da dire che il Mec costa un pochino di più Diciamo che se in Italia Se in Italia Al Mecchi vai quando sei povero A Zurigo ci vai quando sei ricco Comunque Comunque questo video sarà un po' più easy Proprio buttato lì Sarà un video di partenza Perché poi ci saranno un po' di novità Dopo questa scorpacciata McDonald's Andiamo a prendere un po' di energia Da Starbucks Scusa ma com'è che ti chiami? Giovanni 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 Sono così giovane E visto che scrivere Martina era troppo complicato Giovanni due Giovanni 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh ma che figo. Raga, Giovan ha sbagliato strada. E questo è il risultato. Vuoi lasciare una dichiarazione? Eccoci, siamo arrivati a Mendrisio. Abbiamo preso una stanza in un bread and bread. Bread and breakfast. Bread and breakfast. Breakfast. Molto carina la signora. Comunque passeremo qua la notte e poi domani mattina out, finito. E mo' andiamo a mangiare qualcosa e... C'è, ma chi vi porta a Mendrisio? C'è chi? Volevamo andare a Mendrisio a mangiare qualcosa, ma è tutto chiuso perché ovviamente oggi è l'1 gennaio 2018. Quindi adesso ci stiamo avventurando al confine per andare in Italia a mangiare e ovviamente Giovanni ha sbagliato strada. Allora, alla fine siamo finiti a Como. Ogni tanto l'Italia valorizza il proprio patrimonio, eh. Daglie. Ce l'abbiamo fatta! Ok, raga, questo video è finito. Un video molto easy, come detto, proprio. Iscrivetevi al canale perché arriveranno di... altra roba. A entrambi neee! Sì, vabbè, non sopporto farmi no. Buon anno a tutti. Fida, sfida a te. Buon anno a tutti ancora. Auguri, raga. Buon 2018. Vabbè, cosa devi dire? Ragazzi, è finito questo video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video. Anche. No, baciamolo te.